Ciao a tutti ragazzi, guardate che cosa vi presento oggi, l'olio ceramico per la catena vedete dove l'ho comprato, non c'è bisogno neanche che ve lo dico però vedete Decathlon che robetta che bella, madre nel Regno Unito allora l'ho comprato perché sull'Etna, dato che pioveva sabbia vulcanica non potete capire come era ridotta la catena della mia bici allora adesso che l'ho pulita voglio mettere quest'olio ceramico per vedere se è abbastanza lubrificante per la mia catena vediamo, andiamolo a provare insieme la catena è abbastanza pulita, l'ho lavata bene bene e adesso parto mettendo l'olio della catena io parto sempre da sotto perché da sopra seccola, sporca il fodero posteriore allora metto dove c'è la falsa maglia che è qua e faccio fare un giro completo mettendo una goccia d'olio a ogni maglia della catena poi casomai quello in più lo toglierò con un panno adesso che è arrivata un giro poi che cosa faccio? cambio le marce mettendo facendo alzare o scendere il pacco pignoni in modo che l'olio lo distribuisco a tutti i pignoni posteriori la stessa cosa anche con il pacco con la guarnitura anteriore ok? spero che quest'altro video vi sia piaciuto come al solito mi raccomando iscrivetevi al canale è gratis grazie a tutti grazie a tutti